Buongiorno, sono Pagnini Patrizio, sono nato a San Vivaldo e sono presidente dell'associazione culturale Danteum alla Casa Rossa, associazione non riconosciuta senza scopo di lucro che è nata nel mese di febbraio e nel mese di marzo è stata registrata via San Vivaldo. Il nostro scopo è diffondere la conoscenza dell'opera dantesca attraverso le opere di Dante Alighieri e anche gli altri grandi del passato. In particolare di Dante Alighieri stiamo preparando un percorso dantesco che parta dall'inferno per raggiungere attraverso il Purgatorio il Paradiso. Saranno in mostra in questa visita guidata che nell'ipotesi futura verrà fatta, saranno in mostra le 100 tele che rappresentano ogni canto della Divina Commedia. In questo stiamo traendo la nostra soddisfazione e il nostro piacere, cercando di diffondere la conoscenza, mettendo la vita dell'uomo accanto alla vita di Gesù e di Dio e già rappresentata dalla Gerusalemme della Toscana via San Vivaldo. Lo scopo della nostra associazione in assoluto è la consolidare e accrescere la conoscenza dell'opera dantesca e con essa il sistema dei valori di pensiero nel cammino moderno dell'umanità. Credo che sia quello importantissimo, per la conoscenza. La conoscenza credo che sia la base nell'uomo per poter crescere con i valori veri. Infatti, come dice, la prima sosta di espirazione è la hondanna, ospite anche della Scala e poi tra l'Inferno, Verona, Ravenna, quindi è interessante questa cosa. Come la Costituzione italiana non fa toccata, lo stesso pietra miliare dell'ordinamento, questa è la pietra miliare della nostra associazione, del nostro pensiero e del nostro credo, rivolti alla conoscenza e alla libertà dell'uomo. Grazie a tutti!